salve a tutti ragazzi oggi vi farò vedere come scaricare da youtube video e se poi volete convertirli con un'app convertirli a canzoni quindi in formato mp3 allora dovete andare sull'app store e scaricare questa applicazione scusate questa qui però sto muovendo amerigo quando vedete questa immagine sarà quella allora dovete scaricare e poi la aprite io ho già sono andato su una canzone per esempio allora vi caricherà poi voi per scaricarlo dovete solo premere play ora a me andrà un po lento perché sto sto registrando se si muove a me andrà un po lento ecco allora vedi da link video trovato vedete prima dove c'è la frecce la frecce in giù e partirà il dowland poi scegliete dove metterla a destinazione folder e il nome poi premete dovete 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 vi scaricherà a video però poi per passarla a formato mp3 cioè a canzone dovete andare sull'app store e scaricare questa applicazione vabbè non fa niente questa, my mp3 andate e andate sull'icona di cerca e vi dirà convert video voi dovete premere su choose video from gallery e dovete prendere il video dalla galleria e ve lo converterà faccio un esempio va bene faccio un esempio questo archivio quasi ed è convertito a canzone poi non lo so dove forse a musica brani no e dovete ascoltarla dalla canzone va bene ci vedremo alla prossima ciao ciao se vi è piaciuto il video mettete mi piace commentate e scrivetevi grazie a tutti grazie a tutti